Affabulazione, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, coinvolge un grande numero di operatori culturali impegnati nell'organizzazione di eventi, rassegni e laboratori fino a dicembre. Per il territorio Affabulazione è anche un'importante occasione di recupero e rinascita delle zone, lontano dal centro della città. Nello spazio polifunzionale, dove da anni opera il Teatro Area Nord, diretto da Lello Serau, nasce il tendone da circo. Qui ieri sera con Cairos si è conclusa la rassegna di circo contemporaneo curata dalla Compagnia Teatro delle Foglie, presente il sindaco Gaetano Manfredi. Stiamo continuando su una linea che ce l'avamo dati dall'inizio di questa programmazione, che è quella di coinvolgere la comunità locale. Tutte queste iniziative culturali nelle periferie, con i fondi che abbiamo avuto al Ministero, sono molto interessanti, perché uniscono delle iniziative culturali, anche alternative, con una grande presenza di pubblico. E noi continueremo su questa strada perché è il modo per rilanciare la città in tutte le sue parti e soprattutto per far conoscere a Napoli molte parti di Napoli che napoletane non conoscono. La Ressina di Circo Contemporaneo rientra nel progetto Area Nord Festival Confini Aperti, a cura di teatri associati di Napoli in collaborazione con Area Live. Il progetto proseguirà fino a dicembre con altri appuntamenti inseriti nell'ampio calendario di affabulazione. Gli abitanti del quartiere hanno avuto l'opportunità così di scoprire il fascino del circo acrobatico, assistendo a tre spettacoli e a ingresso gratuito da tutto esaurito, ballata d'autunno, la dolcefolia e Kairos, a cui hanno partecipato in tanti, con entusiasmo, come racconta Elena De Falco, codirettrice artistica del teatro Area Nord. Con l'Area Nord in Festival, dunque questa opportunità che ci è stata data all'interno del contenitore a fabulazione del comune di Napoli, siamo riusciti a coinvolgere centinaia e centinaia di ragazzi e famiglie del territorio che vedendo le luci, le lampadine illuminate del tendone da circo hanno sentito la gioia, il bisogno e la necessità di venire a partecipare con noi di questo senso di comunità, di accoglienza, di calore che un tendone da circo senza dubbio crea.